Vi piace il salmone affumicato? Ma siete stanchi dei soliti panini? Ci sono io, non c'è problema risolviamo subito la questione Allora, facciamo una pizza ripiena Guarda, bella unta, eh? Bianca, quella romana con salmone affumicato e che salmone, re salmone poi avocado, basilico, cipollotto fresco, peperoncino pomodoro da insalata stupendo, eccezione, è buonissimo e dei fagiolini tenerissimi e su queste note di questa musica facciamo il nostro panino da portare in riva al mare o in un ufficio Dove volete voi? Vi ho venduto bene? Voi vedete? Sarà buonissimo Allora, iniziamo subito con i fagiolini La cosa più lunga sui fagiolini Allora Oh! Adesso, eh, bisogna comprarli così Guardate quando sono freschi, si fanno così e si come dico da Roma, si capano così Ecco, vedete? Zac e zac Una manciatella, così quindi freschissimi scrocchiarelli mi piacciono, mi raccomando acqua in piena ebollizione un pizzico di sale sempre e continuiamo adesso con gli altri ingredienti quali? pomodoro guardate che bello da insalata stupendo, meraviglioso guardate, bellissimo allora lo taglio a fette, così guardate, eh guardate qua dentro, eh così bello pieno gustoso tiè, guarda qua che roba so bistecche queste non so pomodori, so bistecche signora mia poi andiamo avanti ma che fa, non ce la mettiamo? in ufficio allora, se andate in ufficio no però, se andate al mare lo sai che c'è io ce la metto va bene così il cipollotto fresco ce lo mettiamo se stiamo al mare, dai tagliamo sottile, sottile, sottile sufficiente e questo pure lo mettiamo qua, quindi un altro ingrediente è qui poi può mancà no che può mancà guardate qua anche questo sottilissimo ma questo è tipo un peperone, eh è un dolce eccolo qua e questo pure l'abbiamo fatto la sentite? questa è bella bella un cucetto di bella ci facciamo certo che si con questa musichetta allora avvocato eh qua è sempre un'incognita però li si sentono quando li tocchiamo di nascosto senza farcene accorgere quando sono giusti mi raccomando, no? quelli duri che sembrano da mangiare legno però questo qua l'asse è stupendo è buonissimo questo qua sempre subito maturo cucchiaio ah guarda è meraviglioso levo il piccioletto eccolo qui lasciate il seme il nocciolo scusate nella metà che voi mettete da parte così non si ossida taglio così guarda qua dentro senza che sporco niente a fettine così limone ci serve così non si ossida un pochino così poco 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 grattata di pepe due granelli di quel sale buono che ci siamo comprati e poi basta aspettiamo i fagiolini che si cuociono sentiamo i fagiolini che sono cotti mmm buoni giusti perfetti la cipolla qua dentro un goccetto d'olio buono quello che piace a noi sempre buono di qualità peperoncino zac 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 date in una gelatina piano piano così senza rovinare la cipolla bellissima lei piccola e adesso il pezzo forte il salmone questo è il salmone re salmone di mio amico Giordano che seleziona questi salmoni fantastici norvegesi niente congelato tutta roba fresca signora mia poco sale fumo il giusto solo di legno verde faggio e poi tanto buono e tanto conveniente allora facciamo così faccio il pezzo di pizza come lo facciamo così e vai così così lo faccio così apro questa classica pizza romana la mattina quella che si riempie con la mortadella che robetta allora vado sta bistecchina di pomodoro un pizzico di sale due foglie di basilico guardate qua così e poi lui allora assaggio per capire se posso mettere il sale o meno mmm che vuoi? vuoi pure lei ecco qua una bontà ragazzi dolce è un dolce questo è da mettere in tasca incartato come caramelle capito? allora allora vado con il salmone bello proteine a go go mamma mia il basilico da quella nota di freschezza così poi guardate qua ragazzi siete pronti? quei miei amini quei miei amini adorabili guarda chi è? guardate qua che spettacolo ragazzi oh oh mamma mia che spettacolo che manca qualcosa sì che manca qualcosa l'avvocato dove sta? eccolo qua che spettacolo ma non vedete voglia un po' di limone che col salmone l'avvocato i fagiolini sta perfetto è perfettissimo poi faccio così do una mezza chiusa qua così poi mi taglio mi taglio un pezzettino per me questo è per voi guardate che bel piatto che ho preso oggi ah e adesso l'assaggio l'assaggiamo guardate qua mmm è delizioso delicato elegante buono lo sento pure sano e il salmone leggero affumicato sta benissimo sia col pomodoro sia col fagiolino l'avvocato è gustosissimo sale zero è meraviglioso ragazzi fatelo questo deve essere il vostro bambino per quando andate in ufficio e quando andate al mare quando andate in ufficio senza cipolla alla vostra è buona estate a tutti viva la roba buona mmm 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 vi è piaciuto questo video? certo che si era bellissimo quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perdete mai più un mio video e poi commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi i like oh e damosela mossa questi like un bacio e un abbraccio a tutti muah